Tra le domande più diffuse sui prodotti a gas, molti si chiedono se questi apparecchi effettivamente scaldino. La risposta è sì e anche in poco tempo. Prendiamo come esempio uno spazio di 300 metri cubi, ovvero circa 110 metri quadrati, in un ambiente di ultima generazione con un buon livello di contenimento delle dispersioni termiche e dopo un corretto dimensionamento della potenza dell'apparecchio, una stufa o un cammino a gas possono rilasciare fino al 90% del calore prodotto dalla combustione e creare il giusto comfort in poche decine di minuti. La tecnologia di oggi inoltre consente di modulare la potenza e il numero di bruciatori con un semplice gesto del telecomando, anche in modalità crono termostato che gestisce in autonomia la presenza o no del fuoco. Chiaramente i tempi dipendono dal grado di isolamento dell'edificio, ma per accelerare ulteriormente il processo di riscaldamento un ventilatore termoelettrico può dare un vantaggio concreto e rendere anche più omogenea la diffusione del calore. Comfort assicurato.